Un'assenza, ma dire assenza è qualcosa di riduttivo, perché noi abbiamo avuto anche un ostacolo su molte partite. Penso a Bagnoli e penso anche ad altro, la città metropolitana, i tagli ai comuni, che non vengono rafforzate le forze e l'ordine della nostra città. Potrei fare un lungo elenco dell'assenza e dell'ostacolo da parte dei governi e in particolare, ahimè, di quest'ultimo governo. Ma nonostante questo Napoli si è risvegliata. La novità è questa. Perché altrimenti noi, come se stessimo a raccontare, è un fallimento scaricando le responsabilità sul governo. Invece è esattamente il contrario. Nonostante la latitanza del governo e in qualche caso gli ostacoli del governo, questa è una città, con le sue forze è diventata credibile. Tanto credibile che nonostante Renzi dicesse a Apple vai verso Nord, c'è qualcuno che comincia a scoprire il Sud. E noi dimostreremo a questo Presidente del Consiglio che il Sud va conosciuto, il Sud va vissuto, il Sud non si può raccontarlo come fa lui, e che il Sud darà una grande lezione di democrazia a quella parte del Paese che pensa che il Mezzogiorno sia solo clientela, sia solo rassegnazione, sia solo mafia. Qua i problemi sono tanti. Sappiamo che c'è la mafia, sappiamo che ci sono i prenditori, sappiamo che ci sono i politicanti, sappiamo che ci sono le cricche, ma sappiamo che la maggioranza della gente finalmente si è svegliata. Non sta più a guardare, si sta schierando, si sta riappropriando dei propri territori, e questo dà molto fastidio a quella politica rappresentata dai Bassolino, dai Lettieri, dai Renzi, e chi più ne ha più ne metta, che a loro piace quella vecchia politica dove decidono solo loro e gli altri sono dei sudditi. Adesso i sudditi si stanno riprendendo il potere e stanno decidendo loro, e questo credo sia un grande esempio di democrazia che sta partendo proprio da Sud. La vera novità è questa, è il sud protagonista di una nuova stagione politica.